Ciao a Benvenuti in questo vlog di Pasqua Guardate la giornata perfetta Grace che saltella Vi faccio vedere come si è messa i capelli pieni di ferrettini Poi io facevo colazione Guardando questo programma su Netflix Che si chiama Amore cieco E no io non sto piangendo Poi qui sto scegliendo l'outfit Ho pensato qualcosa di semplice Anche se volevo mettermi qualcosa di elegante Ma faceva freddo Salute Grace Prima di truccarmi mi sono fatta questa maschera nera Che non è nera ma in grigia ma vabbè Non mi piace particolarmente Però siccome ce l'ho la finirò tutta Poi dopo 5 minuti mi sono tolta la maschera E adesso mi trucco velocemente Questo qui è il make up molto molto semplice Perché tanto devo soltanto fare un prezzo con la famiglia Però mi sono messa queste ciglia finte Che nemmeno si notano troppo E questo è il mio outfit Ho voluto aggiustarmi meglio i capelli con questi ferrettini E dico che ci sta anche se questa cosa la odio Poi sono andata fuori con i cani a fare un giro E il tempo si è giustato circa Vabbè dopo è piovuto ancora Però fa niente Poi siccome mi ero truccata e non mi trucco tutti i giorni Ne ho approfittato per fare un video di Tiger Che uscirà dopo Poi mi sono messa agli occhiali Io mi vedo sempre male con gli occhiali Ma questa volta forse per le ciglia finte Mi vedo bene Sono salita per fare il pranzo E questa era la tavola E intanto che aspettavo mi sono messa a fuoco Mia nonna che guarda i miei pantaloni larghi E questi erano tutti piatti che Grace ha iniziato a prenderli Per metterli sul tavolo Ma solitamente noi mettiamo prima la pasta E poi i piatti sul tavolo Infatti poi l'abbiamo ripresi tutti per fare i piatti E questa era tutta la pasta al forno Che ha fatto mia nonna Ecco qui siamo quasi tutti No solo io ero seduta a tavola Però Grace mangiava Questo qui era l'antipasto Si chiamano New Moorhead Poi questo è il secondo con le patate e la carne Grace ha iniziato ad aprire tutte le uova E questo qui è uno dei regali che ha dato un uovo Poi il pomeriggio siamo scesi Abbiamo fatto un riposino E siamo tornate su per aprire altre uova Grace ovviamente appena prende il regalo Lo fa aprire a me perché non riesce E qui c'era Bing Bing Ah ma è diverso Vedi che ha il pigiama Adesso abbiamo un Bing normale E un Bing col pigiamino Qui guardate Grace che si era preso un pezzone enorme Che poi gli ho toto Perché non può mangiare troppo cioccolato in una volta E qui di nuovo al fuoco A rilassarci Poi Grace qui faceva vedere alla bisnonna Come vedere i video sul cellulare E le spiegava ogni cosa Finita la Pasqua mi sono messa a lavorare Questi sono gli orecchini che sto creando E ovviamente mi metto a guardare ancora questo programma Che mi fa sempre piangere Questo era il momento del loro incontro Questi sono gli orecchini finiti Li indosso perché tanto questi saranno miei Quando li venderò ne farò altri E sono davvero felice e soddisfatta Del lavoro finito Poi con Grace ci siamo messi a ballare Quasi ogni sera lo facciamo Come delle pazze E questi sono ancora i miei orecchini Sono davvero felice Trovate tutto in descrizione Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti